ciao a tutti e oggi questo video come vedete non c'è il piano di lavoro di lightburn ma c'è google c'è la home page di google andiamo a parlare di qualcosa di diverso non parlerò di lightburn o non parlerò di laser parlerò di intelligenza artificiale o meglio di come si creano delle immagini con intelligenza artificiale un po particolare che io già un po che utilizzo e finora non ve l'ho mai proposta perché ci ho sempre ripensato sarà il caso non sarà il caso così via adesso penso che sia venuto il momento giusto per parlarvene più che altro perché perché voglio capire se l'argomento vi interessa e come lo saprò se l'argomento vi interessa vedendo le visualizzazioni del video vedendo i like che mettete sul video mi raccomando metteteli le iscrizioni che riceverò su questo video e sicuramente i commenti perché faccio questo video perché io lavoro abbastanza con l'intelligenza artificiale e ho trovato già da un po di tempo questo questo programma di intelligenza artificiale che crea dal testo delle belle immagini che possono venire comode per poi andare a lavorare con il laser sapete che non sono un amante delle foto incise a laser però mi piace molto la fotografia mi piace molto la creatività fotografica mi piacciono molto le luci eccetera eccetera per cui da ex fra virgolette appassionato di fotografia mi sono appassionato a questo mondo un po particolare già le copertine dei miei video sono fatti con intelligenza artificiale non con questa ma con un'altra però vi voglio parlare in questo video di questa intelligenza si chiama focus è un fork di stable diffusion che è una delle principali intelligenze artificiali di generazione di immagini è abbastanza semplice è gratuita ha mille risorse in questo primo video se sarà il primo poi sarà l'ultimo se vedo che non incontra il vostro il vostro gradimento vi farò vedere alcune cose che si possono fare come si fanno per farvi apprezzare appunto questo strumento basta un browser quindi utilizzo chrome non serve installare nulla perché per installare un programma di questo tipo ci vogliono dei computer veramente veramente corposi che hanno schede video veramente potenti io non ce l'ho per cui mi attrezzo facendolo col browser funziona bene lo stesso andiamo a vedere innanzitutto partiamo dal mettere l'indirizzo che vi metterò in descrizione per quanto riguarda il il sito da andare a raggiungere che questo qua che adesso vi faccio vedere una volta che abbiamo raggiunto il sito internet si apre questa finestra che è una finestra un po particolare perché è una finestra di collab collab è una piattaforma una piattaforma un po particolare anche questa è il programma si chiama focus con tre o ricordate i focus allora qui andiamo a cliccare su questa freccetta detto questo play e google ci dice attenzione questo programma non l'ho fatto io ma noi lo eseguiamo comunque partirà questa videata a lavorare quindi farà dei settaggi farà delle cose proprie ci impiegherà qualche minuto e vi caricherà in un server remoto che non so dove sia però funziona molto bene perché questo server ha delle risorse veramente potenti che ci consentono di fare delle cose abbastanza velocemente e bene intanto che carica io ora accelererò la fase il caricamento e vi farò vedere quando siamo pronti per partire ok ecco sono passati circa quattro minuti lo vedete qua sta ancora caricando qualcosa ma quando vediamo queste due scritte così questi due link evidenziati di blu che sono questo è un codice per chi ha diciamo il programma sul computer quindi a noi non ci interessa momentaneamente quello che ci interessa noi andare a cliccare qua clicchiamo qui e come vedete mi si aprirà una nuova pagina che una pagina che lì per lì sembra non ci sia nulla facciamo ancora caricare vedete loading sta caricando l'interfaccia e abbiamo l'interfaccia che in questo momento è caricata sembra che non ci sia nulla ma c'è già tutto la prima cosa da andare a cliccare è advanced vedete si apre questo menu questo menu è suddiviso in altre schede c'è il setting che questa che io ora vi voglio fare un video veloce veloce perché poi ve l'ho detto se vi interessa se vedo che siete interessati approfondirò tutte adesso andiamo veloci qui abbiamo il setting ovvero sia vado a vedere che tipo di qualità voglio lasciamo perdere i preset che per ora non ci interessano ne parleremo poi se mai più avanti lasciamo velocità speed performance come speed che è abbastanza veloce quindi non faccio qualità perché voglio fare un video molto veloce come dicevo il numero di immagini che io voglio in questo caso parte da due ma ne possiamo fare quante vogliamo io solitamente ne metto quattro e il tipo di output il formato di output che voglio delle foto e io lascio solitattamente png qui dovrò andare a scrivere un prompt un prompt cos'è il prompt il prompt è una serie una stringa una serie di cose che noi scriviamo ed è quello che ci farà ottenere la l'immagine che vogliamo allora in quasi tutte le intelligenze artificiali anzi praticamente in tutte è sempre meglio scrivere in inglese semplicemente io faccio così perché non mi sto a scrivere cioè fare le traduzioni perché poi si massico un po di inglese ma non è che sono un campione del mondo d'inglese google traduttore da italiano all'inglese descrivo quello che voglio e me lo vado a scrivere qua ho già fatto qualche prompt così vi faccio vedere partiamo con subito con un'immagine veloce velocissima ma andrò a prendere il testo del prompt e andrò a mettere lì è in inglese andrò a copiare qui il prompt come dicevo è in inglese quindi vedete grayscale image cioè l'ho voluta con scala di grigi perché se devo andare a lavorare laser però le fa anche a colori logicamente poi magari vi faccio vedere qualcuno anche a colori è una giovane donna come fosse la nobile paladina che è inginocchiata davanti un altare eccetera eccetera bla 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 con l'armatura e così via andiamo a vedere con le quattro immagini cosa mi va a generare questa questa intelligenza artificiale lascio tutti i parametri così ecco post forse potrei mettere il diciamo il ragazzo aspetto cioè come deve essere aspetto della foto a farla a 11 cioè quadrata che quella che va bene per le mattonelle ok generate adesso comincia a ragionarci sopra l'intelligenza artificiale e vediamo che tra poco connessione permettendo parte ecco sta già partendo con la prima foto delle quattro che solitamente io richiedo a questa focus vediamo che fa già la prima prima sagoma si comincia a formare piano piano lo vedete e all'armatura come gli ho richiesto è inginocchiata sta pregando si vede che un ambiente religioso eccetera eccetera ci ha le insegne sulla sull'armatura e questa sta creando la prima è quasi mistica infatti sta pregando la propria divinità e la prima l'abbiamo messa in cantiere vediamo le altre tre poi vi farò vedere altri due o tre prompt e come vi dicevo prima se l'argomento vi può interessare poi andrò a spiegarvi anche tutte le altre funzionalità perché per esempio anche come stili ce ne sono moltissime ecco io utilizzo semplicemente questi tre poi vedete qui ci mettono un gattino per far vedere come vengono ma ce ne sono due o trecento non le ho mai contate perché sono talmente tante che ci si diventa quasi matti vedete sta è elaborato anche la seconda sta elaborando la terza questa questa è ancora più enfatica come come foto però vedete che sono abbastanza belle nonostante che io abbia utilizzato un performance speed cioè veloce però sono già abbastanza belle si possono migliorare si possono fare tante altre cose comunque questa è un'altra ve ne farò vedere due o tre di queste immagini che ho diciamo di cui ho prodotto i prompt questa è la terza vedete c'è un bello sfondo di dietro sono fatte a mio avviso abbastanza bene poi potrei farle anche a colori però visto che parliamo di laser poi decidere i colori sapete che non si può e quindi direi che può essere vedete in pochi minuti riesce a farmi quelle stesse addirittura di spalle i prompt devono essere molto articolati dovete quasi raccontare una mezza storia quello che di quello che voi immaginate per riuscire ad avere qualcosa di veramente fatto come si deve ecco vedete questi sono i quattro le quattro immagini adesso vi farò vedere un altro prompt che a mio avviso è carino anche quello questo questo prompt l'ho lasciato senza mettere il bianco e il nero cioè l'ho lasciato a colori per farvi vedere anche le potenzialità colori poi lo trasformerò anche in bianco e nero quindi io vado a evidenziare tutto questo me lo sono copiato me lo vado ad incollare e vado a fare una generazione dell'immagine quindi andiamo a vedere adesso che inizierà piano piano a generare una fotografia di una coraggiosa donna giovane donna è una ma un guerriera amazone all'interno della foresta e vedete che si travede già qualcosa vedo già qualche albero vedo ecco la la pierezza di questa donna con una lancia in mano ecco attenzione spesso le intelligenze artificiali tutte non solo questa che è gratis fanno un po di casino con le mani ho avuto a volte problematiche con mani di sedita qui vediamo che c'è un braccio che la mano dovrebbe essere qui c'è un'altra qua ogni tanto lo fanno ma lo fanno anche quello a pagamento e non è che lo fanno solamente con le gratis cioè con le mani intelligenza artificiale ancora qualche piccola difficoltà non so perché ma principalmente con le mani e vediamo anche questa è abbastanza fiera fiera come come donna guerriera più o meno ricalca quella di prima cambia un po il diciamo il copriseno del della nostra amica vediamo le altre due come verranno fuori sperando che non rifaccia altri errori di dita di mani questa addirittura una posa ancora più agguerrita a vedere dalla prima composizione non ancora vista nemmeno io le vedo in diretta con voi adesso ecco vedete questa c'ha addirittura due lancia però questo proprio cattiva si vede proprio cattiva meglio non averci a che fare con una donna così e andiamo a vedere le altre andiamo a vedere le altre e poi vi faccio vedere un'altra cosa vi faccio vedere come si fa a renderle in bianco e nero alcune 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 di queste allora vediamo l'ultima ecco vedete anche le luci eccetera eccetera sono ben composte come fotografie mi piacciono per questo vi dicevo queste le dita se ci sono tutte mi sembra che ce ne possano di più no me l'ha fatto questo scherzo ma l'ho fatto più volte l'intelligenza artificiale anche su quelle foto che ritraggono me tanto per intenderci che vede sulle copertine del qua le nostre belle guerrierone abbastanza incavolata vedete anche qua sembra quasi che c'è un no non c'è un dito in più ma sembra quasi che ci siamo di da più andiamo a fare un'altra prova ho copiato il prompt dell'immagine che voglio e lo vado ad incollare sopra questa vecchia descrizione che ormai non mi interessa più incolla e qui voglio vediamo cosa viene fuori perché sono curioso anch'io vediamo insieme allora io gli ho chiesto di una di fare una donna che è entrata in un posto dove ci sono dei tesori con la faccia furbetta e tanto di genera così vi faccio vi faccio vi descrivo quello che ho visto faccia furba con un cappuccio in testa vestita con un po di abbigliamento che ha del cuoio e è dentro a una stanza con dei tesori perché molto probabilmente ha intenzione di fare qualche ruberia andiamo a vedere questa è la prima guardate che bel volto che sta creando quindi vi dicevo gratuita abbastanza veloce lavora abbastanza bene questa gli ho chiesto black and white quindi bianco e nero con grayscale per appunto poterla poi passare al laser vi farò vedere poi le stesse foto con invece a colori come vengono e come si fa per trasformare da bianco e nero colori e viceversa con un passaggio e poi finisco il video per non farlo troppo lungo e se vi piace l'argomento mettetemelo nei commenti e io cercherò di farvi conoscere meglio questo programma perché ha moltissime risorse che voi non immaginate meno nemmeno io perché non ancora esplorate tutte comunque è veramente bello guardate la vita colori poi me lo trasforma questo non mi ha lasciato addirittura in colorata non me l'ha cambiata a volte lo fa di tralasciare qualche particolare che devo messo però se vedete anche questa è molto carina questa comincia ad essere una figura pochino più intera ecco non mi ha fatto quello che mi aspettavo a volte lo fa magari speriamo nell'ultima che doveva mettere anche qualche particolare della stanza perché gli avevo chiesto dove in una stanza dove ci sono dei tesori vedi exotic chesos ci sono pronunciato a malissimo dei tesori esotici non me l'ha fatta proveremo magari a rifarlo magari togliendo il black and white andando a vedere se me la fa con un'altra però ecco vedete che anche qua il volto della donna è veramente carino fatto bene il cuoio ce l'ha messo e così via e direi che con questa e questa immagine possiamo anche avrei voluto farvi vedere qualcosa di più però non voglio tediarvi con questa perché voglio capire se vi interessa o no punto l'avrò detto tre volte ma ma lo ripeto faccio l'ultima prova vi faccio adesso vedere un una cosa che molto più semplice diciamo un po meno cervellotica di un altro prompt che dice la testa di un drago preso di profilo in scala di grigio con un background quindi uno sottofondo uno sfondo bianco e che simuli un po' un'immagine in 3d andiamo a vedere come ci genera questo questo drago andiamo a vedere come vedete io non ho cambiato nulla però si possono fare tante tante cose vediamo questo drago come ce lo propone l'intelligenza artificiale cominciamo con il primo ecco vedete gli ho chiesto di farmi un grayscale quindi generalmente prima solo fa colori poi lo trasforma in bianco e nero qualche volta bianco e nero se lo dimentica ecco vedete che è abbastanza dettagliato anche nel diciamo nelle squame del del muso andiamo a vedere nemmeno fra quattro anche di questo e nel frattempo che genera io intanto mi colgo l'occasione per dire e ripetervi se vi piace questo tipo di video me lo fate sapere in tutti i modi commenti like iscrizioni quello che volete sul gruppo farò qua un post anche sul gruppo facebook dicendo vi piace questa materia volete che ne approfondisco questo programma che per me è molto valido oltre che gratis vedete sta facendo il secondo poi si vedono bene quando sono diciamo finite tutte quattro perché ora sta ancora generando ecco ora ha preparato ha finito la seconda prepara la terza logicamente non avendo detto quale profilo me ne fa un po di qua un po di là e questo è semplicissimo alla portata di tutti prima mi sono un po arzigogolato con descrizioni lunghe ma vedete che anche con descrizioni brevi l'intelligenza artificiale lavora abbastanza bene gli ho detto di fare solo il muso per cui la testa e non me l'ha fatto tutto se avessi detto fammelo tutto non avrei fatto tutto io adesso mentre mentre focus con tre o finisce io vi saluto a tutti e vi do appuntamento al prossimo video e spero che mi diciate che vi piacciono perché a me appassiona molto e sono mesi che mi diverto con l'intelligenza artificiale questi sono alcuni esempi che ho fatto ma se la cosa può andar bene ci sta che ne vedrete anche altri ciao a tutti aspetto proprio l'ultimissimo che ormai ha quasi finito almeno mi si riempiono il mio video di questi quattro mostri eccoli qua e vedete che se io vado ad aprire questo che è molto definito guardate che bello ecco guardatelo già nella prospettiva di come verrebbe con il vostro laser ciao a tutti e ci vediamo grazie mille per avermi sopportato fino a me e i miei mostri ciao ragazzi ci vediamo